io guest 10 non voglio fa le sgoschi e comunque due ce so sempre che mi dici prova per levarci un po di robe tipo scavo scavo mo fa scafo o scafo grazie per i sei bentornato prova tipo cafo scafo scalo vabbè non ci possiamo provare chi è un mostro fabio bravissimo fa allora angolo allora bro questo non è non è molto questo sarà come queste di 28 360 meno 28 di tipo 33 38 famo sei sicuro che sia un 28 penso quanto fa 360 meno 28 meno 30 32 32 32 no che cazzo sto dicendo no mi sa che 28 fanno hai detto meno 28 meno 20 a si meno 28 360 meno 28 8 52 meno 20 32 33 33 31 vogliono piccarmi voglio spara ma bravo il cazzo fabio porco dio di uno fa e vabbè bravo comunque no e la prendevo in uno dio cane era una bomba fabio non è però per aiutarmi col verde donna a brasil a brasil a brasil a brasil a brasilia mette un po di musica leggera fa perché ho voglia di niente vabbè io non so cosa va bene così ma ok country è però fa è vicino di 2009 2009 forse 900 chilometri stati uniti potrebbero essere stati uniti potrebbero essere allora cosa è che qua non può essere perché c'è sono colombia ecuador forse stati uniti peru bolivia paraguai cile argentina uruguai tutto troppo vicino no ma metti metti stati uniti cooler no fa non è che una roba del genere guardo io spero di no perché sennò siamo rovinati è tipo qualcosa africano tipo però non può essere 2.900 chilometri no cile schooler fa e sierra leone sierra leone non so se sono 2.900 chilometri non so siamo rovinati però sono lì vicini tipo ghana dio e accanto al marocco stiamo nella merda e algeria non lo so che cazzo c'è da a livelli so bravo cazzo troppo forte dimmi una capitale moscao proprio una merda porca troia 10.000 chilometri metti quella del sud africa non so cos'è la joannesburg forse a non è la prima tra cape town non è la l'operatoria ok ok non è 10.000 chilometri quindi siamo lontanissimi anche da qui può essere canada forse o roba d'america se no beijing pechino proprio tokyo warmer c'è da 1100 australia verità non è neanche lì o mado però beh aspetta abbiamo una riga la che che roba c'è lì e questa è l'indonesia di giacarta sarà uno di questi di queste isole del cazzo fama bu non so non so e non so la singola di questi cosi ma che ne so metti caserta non è una capitale singapore è alla fine della malessia e manila però le filippine di lì sarebbe di proprio di quello che cazzo è quello è la capitale di timore testa e lo sapevo pure ok quindi era quella quella che dici tu ma perché so dove stanno però le nazioni non le capita rockets league poi c'è un altro che bisogna far raggiungere ed eduardo è da volta di scempion prova scempion song le nadi io metterei c'è bomba questo sta laggando a merda ma è la clip o lui ma penso che la bella registrata cazzo di cane mamma me io che se inventa sto pazzo poterò un gran cemper ma il codio metti un gran cemper al centro nascolato dai metti cemper cos'è almeno una prendiamo mettere i metti tu mettiamo cemper tanto una stella è presa è proprio due bomba parola chiave se non la telecamera qua allora abbiamo effetto palazzo è tanto fa è 50 50 vai effetto un fenomeno bomba effetto resina un metro atti resina può essere suolo suolo dici o a caso che dici ho trovato resina tra effetto e metro metro che può essere intesa come la metro di quella sottoterra oppure il metro proprio la misura anche lo strumento che misura anche volendo e allora impiccatemi dai effetto metro e lunga ti direi a sto punto prendere perfetto ci dobbiamo impiccare marzo allora con effetto metro lunga rosa e portiere una parola che in comune con queste cinque ma che una parola che ti viene con qualcosa di queste anche a caso e non vedo collegamenti può essere squadra è però effetto squadra la squadra alta un metro così la squadra dei nani hai allungato la squadra la rosa e la squadra il portiere sta nella squadra effetto squadra non chiedermi che cos'è squadra effetto prova perché tanto no puttanoni che sicuro non può essere io se leggo metro a me mi viene metro exodus ma non c'è non può è boh vabbè va a fanculo senti vai metti non c'entra un cazzo effetto notte la metronotte una lunga notte nel portiere lavora da notte la rosa non so che cazzo è la rosa da no a la notte rosa fabio mi devi senti l'audio qua ok bisogna indovinare la canzone non lo so ma anche se sbagli te la lunga non ti viene in mente un cazzo no boh life could be a dream come si chiamo no ma è buemi a rhapsody e me so a boh quale bravo bro e rianna umbrella di rianna no bro no la conosco non è sunflower porco dio si e e e e e e e sì metal castle 3 oddio ma è vero sì fabio ma che cazzo dici quello e no che non è quello o pare una bella merda 2009 a wolverine fa sarà x-men o proprio c'è il gioco suo x2 wolverine's revenge ma bro ma è uguale no ti giuro che è uguale a metal gear la prima schermata sarà wolverine e basta oh sì prova no era x-men origins ma la prima rega è uguale a metal gear allora siamo all'italia le rive del risparmio delle province lombarde le rive del lago lombardia sarà a garda dai io ti direi più forse quello di como vado proprio a como però perché non è che io possa sapere è un piazza cavura a como vai e metti anni boh sarà massimo 87 93 75 ed eravamo boh è sul lago di garda e sei un pezzo di merda dai triunf triunf è la macchina io ti dico sti caschi di sti elmi dei cosi sono palesemente iglesi qua siamo in inghilterra marzo vado a caso a londra che dici 60? 70? anche 80 80? come? bro ma le auto sono vecchissime ma come fa s2018? ragazzi 2020 ma era un film si palesemente perché se no non si spiega casting crew for the netflix original series the crown aaaah ma se impiccassero e questo è molto vecchio marzo bro però a disneyland pari non so se è disneyland pari però è pari ponte alexandrei 1900 1900 a mille 1896 ponte alessandro terzo è lui ecco l'hanno fatto nel 1897 ma non penso che l'hanno appena costruito qua però io ti dirò guardando la foto così si metto 1900 anche 1905 1907 devo 8 era 1935 1935 lo dè che potevamo fa 10.000 afram gongugotour total football bilinguismo mi dici il bro jalskildi sembra roba tipo norvegese forse danimarca tipo roba simile scozia scozia dovrebbe avere le targhe gialle dietro irlanda eh potrebbe però la lingua non mi sembra molto irlandese questa è svezi eh tipo roba simile allora facciamo una cosa andiamo a copenhagen tipo penso di ieri si poi tu 2.16 poi islanda no islanda cazzo erano i chiavi non ci ho pensato però ah queste linate ma io sono la base di che cosa dovrei dirti dove siamo però ragazzi scusate beh sicuramente vecchia eh sì io ti direi che sulle bombe siamo da qua qualsiasi cosa è nel 1940 no è che ne so fa queste bombardavano tutti ma in turchia in turchia non so perché me la filo turca io questa no ma istanbul era 41 vabbè ono lulu non lo prendevamo mai eh le hawaiso è per l'arbore no per l'arbore mai 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 abbiamo pure perso a regola per 500 per 5,50 tragedia a Grazie a tutti.